è colui che continuamente ci sposta nell'attenzione ma anche nel desiderio fisico di esibere l'opera ad un oceano, tanti oceani e quindi noi guardiamo questa figura, questo corpo, questa idea di raffigurazione molti anni di passato, la novità la lasciamo naturalmente alla moda, la lasciamo alla stampa, all'informazione probabilmente anche a un certo tipo di design, non certamente agli architetti architetturati di cui so che questa è una serie freggiata ma cosa c'entra l'economia con il verde lampia? Si potrebbero imparlarne?